Ieri sera con la spettacolare cerimonia di apertura si sono accesi i riflettori sull'edizione 2015 della Coppa Interamnia, la celebre World Cup di handball. Tantissime le squadre presenti, tra cui anche la nazionale ellenica, oggi impegnata al Palas San Nicolò. Quella di ieri è stata una giornata importante per la Grecia al centro delle vicende economiche e politiche dell'Europa. La vittoria del no al referendum e all'austerity dell'Eurogruppo ha di fatti aperto una nuova era per l'Europa. Ma sentiamo cosa pensano delle vicende che stanno attraversando il Paese i diretti interessati costretti a seguire il tutto lontani da casa. Siamo con Stefano Caralis, responsabile tecnico della squadra greca. Ieri è stata una giornata importante per la Grecia che ha detto no al referendum e quindi no all'austerity dell'Eurogruppo. Che cosa pensate di questo risultato? Sì, i risultati sono molto buoni per la Grecia perché 1.055.000 persone non lavorano. E' molto possibile mangiare, tutti vanno all'eglise per la mangiata. E' terribile. E per voi che cosa pensate per il vostro futuro? Come vedete il vostro futuro? Secondo voi la Grecia ce la può fare a salvarsi? Sicuro la Grecia è su all'euro perché l'Europa è la Grecia. Ma secondo voi la Grecia dovrebbe uscire dall'euro? No, 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 non è possibile. Secondo voi sta facendo bene il primo ministro Tsipras? Molto bene per la Grecia, per la Grecia molto bene. Quella di ieri è stata una giornata importante per la Grecia. Siamo con il portiere della squadra greca e a lui vogliamo chiedere innanzitutto che cosa pensa del risultato del referendum. I greci hanno preso una propria decisione parlandone molte volte e che siano loro a decidere votando liberamente. Pensa che Tsipras stia facendo un buon lavoro? Lo vedremo in futuro quando prenderà delle decisioni. Pensa che il loro futuro sia in Grecia? Se la situazione continuasse non rimarrebbe in Grecia ma se migliorasse rimarrebbe lì.